12 scuole medie e due istituti superiori, 40 elaborati. Questo spezzone che abbiamo visto è degli studenti e dell'ente di formazione IRIGEM di Rosà che hanno vinto un premio per questo lavoro al premio intitolato a Marisa Nardini-Visci di Benefattrice della Città. È un valore che ci ha trasmesso mamma e quindi credo che il miglior modo di ricordarla sia proprio cercare di sensibilizzare i giovani verso la donazione e verso anche il valore di rendersi utili per il prossimo, che credo sia la base della società. Un concorso è arrivato alla 22esima edizione che vede in prima linea il reparto donatori di sangue Montegrappa, da sempre impegnato in campagne di sensibilizzazione. A causa delle restrizioni abbiamo potuto partecipare poco nelle scuole, siamo stati costretti a fare delle chiavette USB per poter sensibilizzare i giovani, per poter parlare con i giovani, spiegare l'importanza della donazione di sangue. I giovani hanno comunque capito l'importanza del dono, l'importanza del fare del bene per chi ne ha bisogno, per chi è meno fortunato di noi. Professore, una soddisfazione anche quest'anno per i rigeneranti di formazione e per questo premio importante. Certo, come gli anni passati, è il quarto e il quinto anno, qui partecipiamo. Gli allunni sicuramente si sono dimostrati molto interessati al progetto. È grande emozione e una grande partecipazione. Io sono veramente coinvolto in questo progetto da tanto tempo e ringrazio anche i ragazzi perché tramite loro scopriamo sempre delle cose nuove. In particolare due le premiate per questo elaborato multimediale di grande, grande impatto emotivo. Tu come ti chiami? Io mi chiamo Fagione Elisa e frequento il terzo anno del Lirigem, corso multimediale. Qual è stata la difficoltà più grande? Sicuramente la difficoltà più grande è stata quella di creare lo storyboard e trovare un'idea che potesse spiegare i concetti come volevamo spiegarli appunto. E per te come ti chiami? Beatrice Sonda e per me è stato molto importante questo progetto perché appunto con questo progetto possiamo trasmettere veramente tanto quindi l'importanza di donare e come è stato detto anche l'importanza di donare un sorriso. Grazie. 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 Grazie.